Musica Attenzione alla seconda missione di Art Reset La prima è stata fantastica, avete visto, è stato molto divertente Più che altro è un'indicazione per la missione, non è neanche una vera e propria trama LOL Quindi, Cut It Fletcher Allora Allora, se ne va E ci lascia qui Sento già dei stronzi io Appena iniziato già sento stronzi Infatti, stronzi Eccoli, hanno spostato i... Eh, eh, l'ho visto Tutto scimione che non c'è altro Possiamo potenziare qualcosina Combat Gear Ehm, vediamo un po' Ehm, qui Cosa vuole? Ne vuole due, addirittura Ah, Install More Upgrade Ah, certo Per esempio Directional Damage Hood Indicator Enemy Position Hood Indicator Position Hood Indicator No, non ci interessa Questo è Increase Max Weapons Capacity Questo è interessante E infatti io aumento questo Perfetto Ora possiamo prendere più munizioni Welcome to Upgrade Tanto so che siete qua, stronzi Mi stanno facendo un'imboscata Stanno pre... Oh E vi spezzo Vi distruggo Porca la miseria Ebbè Il pompa è il pompa Oh, oh Che è sta musica? Non mi dire che stanno arrivando a massa Eh Chissà di sì Eccoli Aia, 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 aia Aia Fanno male Pure da dietro Eh, un achievement Mi ha sbloccato Ancora Fuck you Fuck you bitch Hanno chiuso il cancello? Ah no Non si apre Ebbè Dobbiamo entrare là Però prima voglio vedere se troviamo qualcosa Eh, come ci si abbassa? Ci si può abbassare Vediamo Premiamo tutto No, non credo Eppure è strano Dovrebbe No, ragazzi Non riesco ad abbassarmi Strano Perché mi ricordo che ci si poteva abbassare Vabbè Vabbè, fammo il giro, no? Vi ricordo che sono molto importanti da prendere i soldini Quindi Se c'è da fare un giro No, vaffanculo Non c'è neanche da fare un giro Non c'era niente Ah sì, invece sì 70 Wow Bella Meno male Meno male, ci avevo visto bene allora Proseguiamo Ora dobbiamo aprire qua Chi c'è dentro? Nessuno Perfetto Ah, un po' di munizioni, cazzo Bella Piccolo caricamento veloce Chi è? Credo sia un gigante Attenzione perché ci sarà sicuramente un gigante da sconfiggere Bella, 200 monetine, cazzo Che qua si chiamano nano, però Vediamo altri segreti Tutto dobbiamo prendere Tutto, cazzo Eccolo Mortacci su, quanto è veloce È già andato, eh L'ho ucciso È andato a sbattere contro proprio il coso elettrico E si è fulminato da solo Più i miei colpi L'hanno ridotto in cenere Meno male Ah, niente Peccato Pensavo chissà che cosa Prima di andare a comprare Vediamo altri soldini Esatto Ma non possiamo comprare niente Mi sa, eh Eh, in effetti Esatto Vi spiego come funziona Guardate in basso a sinistra C'è, eh In alto una barra verde Sotto una barra gialla Poi sotto ancora una barra rossa Invece a sinistra c'è una barra arancione Che va verso l'alto E quella barra lì Quando si riempie C'è una Se vedete la barra C'ha un pallino sopra Lì esce uno Significa che noi possiamo praticamente andare A potenziare le nostre armi O il nostro personaggio Cos'è quel coso? Telecamere Attenzione Piccoli stronzetti Piccoli stronzetti curiosi Un altro achievement Ah, qui praticamente dobbiamo saltare sopra Et voilà Oh oh Che bella esplosione Un altro Un altro veramente Guardate l'arma come è riscaldata Guardate l'arma quanto è riscaldata Ragazzi Wow Tipo un altro po' andava in fiamme Uh 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 Aia What the fuck What the fuck What the fuck Maledetto L'ho fottuto a furia di pompate Diamo qualche segretino Esatto Eh merda C'è quella cazzo di Oh Chi è? Che palle Ok andato L'allarme della macchina Vediamo Qui non c'è niente No Non credo Abbiamo già visto poi La non si apre Quindi direi di proseguire Vedete qua c'è il filo blu Che va fino al palazzo là Quindi se qua non si apre Perché non c'è power of limit Dobbiamo andare Che cazzo è sta cosa? Tipo porta pubblicità Bu non lo so Quindi dobbiamo andare di là Intanto si sentiva tipo una donna che parlava in giapponese Forse le pubblicità Bu Sentite la musica? Bella Sapete cosa è successo? C'era Specie di Eccolo questo qua Un interruttore Che bloccava la porta Facendo esplodere i robottini Che è? No Tipo è saltato Quella protezione Che bloccava la porta Ok potenziamo Picket regenerated More Wow Weapons Bella Vai Dovrebbe rigenerare le munizioni Non ci credo Troppo fantastico O forse soltanto quando le raccogliamo Ci dà più cose Allora Qui era il nostro obiettivo E se invece proviamo ad andare di qua Cosa c'è? Secret found Bella Sono un ricercatore di tesori Dobbiamo potenziare il pompa Alla prossima potenziamo il pompa Ok qua il Rigeneratore Ok Adesso c'è di nuovo corrente Eh beh te pareva Due Non uno Due Aia Aia Facciamolo correre verso la bombola Va Ma un terzo c'è? Wow c'era un fottuto terzo Non ci credo No ancora vivo Si sta trascinando a terra Guardatelo Guardatelo lo striscia Eh ho finito le munizioni Merda Prendiamo Dov'è l'altra? Fuck you Merda che non sia altra Wow Tre robot giganti Tutti sparati uno dopo l'altro Cioè è proprio bastardo sto gioco Però me gusta Cazzo se me gusta È troppo figo Allora Se non sbaglio Munizioni dell'altra arma Non ne abbiamo Eh sì Ne abbiamo Però togliamola Prendiamo Il mitra Prendiamo quel cazzo di Coso Bella Munizioni Vediamo se c'è qualche segreto No Che cazzo No Altre piccoli stronzi Eh sì Eccoli Attiriamoli verso le bombe Vai Ai 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 Pompa 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 Perfetto Uh Andiamo avanti Fin quando ce la facciamo Andiamo avanti Altri? Non bastavano quelli di... Wow Che stronzi Si sono fatti esplodere Li vedete ste sfer Alcuni sono fatti tipo A forma di sfera Se riuscite a sparare loro Eh Praticamente tutti gli altri esplodono In quanto loro sono esplosivi Quei bastardi Quindi basta Sparare a loro Che tutti gli altri muoiono Ok Però purtroppo Quei bastardi Che si fanno esplodere Se vi vanno a toccare So cazzo amare Wow Nemici nuovi E so forti questi Più i piccoletti Certo Non bastavano quelli No Ok andiamo giù Ritirata Ritirata Guardatele il bastardo Li abbiamo fatto esplodere Dove sono? Eccoli Ja Sembrano un minidi Ma lo devi crepare Ma davanti sono tosti questi Uh Sopra c'è un piccolo segreto Ah Io che riuscivo Pensavo di riuscire a A saltare Come si fa? Ah così Lol Più semplice si muore Perfetto Secret found Grandi ragazzi No Aia Le ossa Cazzo Un altro segreto È stato trovato E un altro Se non mi ricordo male Ce n'è un altro là sopra Quindi Dobbiamo fare tipo Una cosa velocissima Ora vi faccio vedere Però prima prendiamo tutto Ok Eh vai Ci siamo riusciti ragazzi Ci siamo riusciti Adesso c'è un altro segreto ancora Lo vedete quello là sopra? Ci proveremo Ci proveremo Guardate come il nostro Sparatutto Vecchio scuola Diventa un puzzle game Eh Come cazzo si saliva qua? Ah Intanto guardate là Non l'avevo visto Allora Proviamo a salire Sull'interruttore Esatto E poi così Uh No Perfetto Perfetto Funziona Solo che Dobbiamo avere più precisione Tu quella cazzo Di pubblicità che Non so se la sentite Muore un trivalle Io odio i puzzle game Perché sono nabbo Si vede Allora Tolgo il video va? Ok Fino a qui ci siamo E Come faccio a prenderlo? Cioè ci dovremmo spezzare le ossa Praticamente Non ho capito Se si spara Non succede niente Quindi io direi di Saltare Uno Due Eh dai Ma 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 Che cazzo Che ragazzi presi? Secret found Vedete sotto Li abbiamo presi Vi faccio vedere Ecco Sono spariti Bella Bastava saltare E centrare bene Infatti ci sono riuscito Vediamo che cazzo Fa quello Vieni qua bello Vieni Vieni Bravo Bravo di papà Ah ora possiamo Comprare qualcosa Di nuovo Quindi prima di aprire L'interruttore Che sicuramente Attirerà altri 25.000 Bastardi Ah ma qua non c'è Luke Graydon Giusto Compreremo dopo Andiamo ad attivare L'energia Vediamo se arrivano Stronzi Sì Arrivano E che stronzi Ragazzi Vieni bello Vieni Ok Già tanti Mi li sono tolti davanti Aia Questa volta è finita Stiamo per crepare Che culo siamo vivi Non ci credo Guardate la vita Siamo vivi Siamo vivi Wow C'è bisogno di vita Vabbè la troveremo Sicuramente più avanti Comunque il ponte è sceso Stiamo attenti Ragazzi Dove vogliamo andare Questa poca vita Se non troviamo Quel Merda Mi sono spaventato Oh ecco la vita Ma non possiamo andarcela Per il momento Addirittura Non è che stanno arrivando Da dietro No Ok Vediamo cosa potenziali Che vita eccetera Ancora non possiamo Potenziare niente Quindi direi di Andare a potenziare Il pompa Eccolo Secondary weapons Mode Paralysing Project Utilis Shorting Reloaded No direi di questa 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 dovrebbe paralizzare Leggermente I nemici Dovrebbe Vedremo Vedremo No ragazzi Qua me lo ricordo È devastante Oh Attenzione Attenzione Non ho vita Non ho vita Siamo morti ragazzi Siamo morti Mi dispiace Mi dispiace Ma siamo morti Io scappo Non mi prenderete mai Bastardi La vita La vita La vita Cazzo Non c'è una fottuta vita Non ci credo Qui c'è un segreto Paralizzati Oh mio dio Sta per esplodere Tutto qua 14 di vita La vita La vita La vita Sì Bella Oh mio dio Se qua esplode qualcosa E ci colpisce Ma perché non riusciamo a prendere Oh Finalmente Crepa Stronza Anche tu Crepa Dovrebbero essere finiti ragazzi Dovrebbero essere Uh 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 Attenzione Allora La cosa primaria adesso È cercare un po' di vita Perché l'armatura ce l'abbiamo Però la vita no Dovremmo andare di qua Ma aspettiamo C'era qualcosa Che non avevamo preso Si può scendere Sì Munizioni A volontà E niente vita Quando la vita La si cerca Non la si trova mai Incredibile A tutti i giochi È così Cazzo ma siamo di nuovo qua No L'ho sbagliato strada Si può essere così rimbambiti Allora dove bisogna andare Non ho capito Sopra Sì Sopra era Esatto Al piano di sopra Qui c'è un soldato morto Sì Eh beh Ok fantastico Siamo morti Esplodi Che botta De culo Ragazzi Che botta De culo Vediamo Ah questo è l'ascensore Dove c'era la vita sotto Perfetto Abbiamo finalmente trovato la vita Bella Bella lì Guardate Oh Finalmente La vita a massimo Era ora Ok Ora dobbiamo andare di qua Perfect Mentre arriva l'ascensore Però arriveranno gli stronzi Quindi piazz Ah no Questi Pensavo che durassero di più Via via ragazzi Via Ciao stronzi Ciao 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 Moto quanto era pieno Ancora mi segui no? Sì Merda Sì Strapieno Oddio Il bombarolo No Comunque un altro Archivement Sbloccato Aia Beh non si può No Come ma Oh 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 Merda Che bisogna fare adesso? Saliamo al piano superiore E qua non si può andare E quindi? What the fuck? Ci deve essere per forza un interruttore Qualcosa Ah ecco Bastava uccidere I piccoletti Merda Stanno sparando quella navicella Sono finiti Ho sentito un gigante Sì Due Non uno No Proprio tranquilli Guardatele che violenza Guardate lì quanti sono L'arma si sta sciogliendo L'arma si sta sciogliendo Era ora Era ora Vediamo dove andare Adila Prendiamo tutto Che Prima di proseguire Dobbiamo essere riforniti Di tutto appunto Abbiamo tutto Sì Andiamo Sto cazzo Sto cazzo di livello Sta durando Un'infinità Cazzo E siamo solo al secondo livello Wow Allora immaginate Quando saremo tipo al quinto livello Che cazzo di casino ci sarà Qui dice Destra o sinistra E' uguale Chi se ne frega Andiamo a sinistra Sì infatti Era assolutamente Uguale Mi sa è finito il livello E' perché Adesso Bisognerà raccogliere O attivare qua Ed è finita Esatto Resistant Mi ha sbloccato anche un achievement Bella Guardiamo un attimo i risultati Zero morti Abbiamo collezionato il nano Al 93% Che sarebbero I soldi Insomma Circuit found 7 su 8 Infatti credo che quel 7% Sia dovuto a quel segreto Che non abbiamo trovato E' anche bello magari Trovare tutti i segreti No? Da quella motivazione in più Di magari rigiocarlo Eccetera Enemy skill Ed è 157 A me sembravano molti di più Di 157 Però vabbè E niente Votate e commentate E alla prossima Ciao ragazzi